Pescara è in ascesa in classifica ma è in ascesa anche sui social con nuovi follower, tanti follower, grande crescita anche nei like. Qual è il segreto di questa area? Lo chiediamo al responsabile dell'area comunicazione Massimo Muncianti. Il segreto è prendere tutto con il sorriso, non lasciarsi appesantire da quella che può essere la quotidianità o l'esasperazione di uno sport e cercare di, non dico di fare un servizio ma di far mettere più sorrisi possibili in un mondo che evidentemente ne ha bisogno. Condividi questa esperienza con un'altra persona che magari è meno conosciuta di te perché non agisce in loco. Possiamo parlare anche di questo aspetto, di questo Emanuele Garau? Sì, l'area comunicazione è composta di diverse persone, siamo una decina, una squadra, ognuno riesce a gestire più o meno un qualche cosa. Dalla web tv agli altri social, in particolare in questo periodo abbiamo avuto un po' di clamore per il Twitter appunto perché mi sono affidato, ci siamo confrontati con questo Emanuele che è praticamente di Toronto e quindi diciamo che è una matrice un po'... Vive a Toronto, lui è sardo d'origine. Vive a Toronto, quindi noi ci sentiamo H24 attraverso WhatsApp, attraverso il telefono e niente, ci confrontiamo e decidiamo più o meno le linee da seguire. Abbiamo scelto questa linea e lui appunto venendo da un'altra mentalità perché quella americana è inutile a nascondersi, è un'altra mentalità. Abbiamo deciso di iniziare anche qui a fare un qualcosa del genere. Io ho mai sposato, sapete che l'innovazione mi piace, quindi ho sposato immediatamente il progetto e attualmente pare che ci va bene. Vediamo un po' fino a quando dura. Possiamo dire cosa è successo in queste ultime settimane, questa crescita dovuta a questi tweet che sono ricchi di ironia ma che trattano anche argomenti molto molto sensibili che lambiscono il mondo del calcio. Sì, il nostro scopo è quello di prendere l'argomento di attualità che è sulla bocca di tutti e trasformarlo, dargli una chiave bianca azzurra. Io mi diverto a definirla così. Cerchiamo di portarla a casa nostra e quindi non volevamo tutto questo clamore, a dire la verità. Però, ripeto, fino a quando piace noi cavalchiamo l'onda. L'ultima avete stimolato un po' le coscienze perché, ripeto, avete trattato temi sensibili ma anche un po' di gogliardia perché poi al tifoso piace sognare e vedere Ibrahimovic con la maglia bianca azzurra o magari Cristiano Ronaldo stimola appunto il tifoso. Ecco, questo per esempio di Ibrahimovic è venuto fuori non da noi, è venuto fuori da un tweet di una ragazza che praticamente si chiedeva, forte perché in quel periodo eravamo in ascesa con diversi temi anche piuttosto sul sociale ci siamo da un bel po' di tempo e appunto ci chiedeva questa cosa, l'abbiamo presa come una sorta di vignetta da trasformare e ci è andata bene. Quindi diciamo che coinvolgere i tifosi credo che sia lo scopo principale dei social. La cosa che mi piace di più è che stiamo cercando anche di coinvolgere le altre società e anche sotto quell'aspetto diciamo che cerchiamo di smorzare anche perché alla fine sì è vero che ci diamo battaglia ma alla fine io li conosco tutti, ci conosciamo tutti e alla fine è un gioco, quindi bello cos'è.